Questa sera non usciamo da qui se prima non frizzeriamo insieme. Ma che stai dicendo? Ma che hai capito? Quello magari lo facciamo dopo. Adesso voglio solo farmi un capo con te. Come? Ora ordino anche per te un amaro del capo ghiacciato e vedrai che brividi di piacere. Vecchio amaro del capo, ghiacciato, ti conquista. Bevelo sempre a meno 20 gradi.